La parola di Piacenza, ci torneremo dopo, è successa quello che non sempre si vorrebbe ricordare cioè la morte di un amico soprattutto di Gigi Cagni, il suo secondo per tanti anni l'ex portiere e allenatore Nicola Pinotti stroncato dal classico ahimè male incurabile Gigi ti chiedo nel momento due secondi un pensiero su Nicola Pinotti che ce la merita È pubblicissimo guarda perché è un personaggio unico, sono quelle persone che nel calcio non vengono mai nominate e io non avrei vinto quello che ho vinto senza di lui, su questo non ci sono dubbi, è una persona incredibile per fare un esempio se lui in questo momento fosse un allenatore dell'Inter quello che è successo a Balotelli non sarebbe successo con lui Questo per dire di quanto è... Sì, lui prendeva i giocatori, li prende, fa il fratello maggiore, li segue, era una persona sotto questo profilo di un'umanità incredibile e ripeto, i successi che ha avuto sicuramente sono stati merito suo Tant'è vero di Piacenza, soprattutto ha giocato con il Lutoblaccio proprio per ricordare questo amico che non c'è più Grazie 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 Grazie